Buongiorno a tutti, oggi vediamo un termine che descrive una mossa o anche una strategia molto comune nella fase iniziale di una partita di backgammon, split and down. Per spiegare il termine la maniera più semplice è vedere un esempio. Nella posizione che vedete il bianco ha tirato alla prima mossa un 3-2 e gioca il 3 splittando il runner e il 2 muovendo, portando giù una pedina dal midpoint. Quindi split col 3 e down col 2. Quindi questo è giusto un esempio, ma possiamo dire che questa strategia è molto comune perché risponde a due esigenze importanti nella fase iniziale di una partita. La prima con lo split è quella di costruire un'ancora avanzata. La seconda col down è quella di abbattere il pilone sul midpoint. il famoso Break the Mountain di Michi. Grazie dell'attenzione e arrivederci al prossimo episodio.